E' bellissimo che vieni qua davvero, è un sogno di sentire materializzato. Ma ci tengo a dire una cosa, Lennar Green deve fare molte cure, parte del ricavato di questa giornata va a Lennar Green. E soprattutto grazie a tutti quanti voi, perché se questo è possibile, perché voi siete qui. Grazie. 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 Grazie.